Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo Almanacco di bellezza 15 marzo Piero Maranghi, Leonardo Piccinini 15 marzo preciso preciso come piace a Leonardo Sì, sicuro tra l'altro Sicuro del 270 avanti o dopo Leonardo? Dopo ovviamente, se no non sarebbe santo Nasce San Nicola di Bari Sì certo, importantissima figura straordinaria, mitica che poi in realtà dovremmo chiamare San Nicola di Mira Di Mira perché a Bari non c'è mai stato Ma noi sappiamo che lui oltre a essere santo e patrono di un'infinità di soggetti e di categorie E' anche il personaggio da cui deriva Santa Claus, Babbo Natale Allora, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un turco Di un turco, mamma di turchi Non c'era ancora la Turchia, precisiamo Era una delle parti più importanti dell'impero romano Dell'impero romano, secondo la tradizione appunto, lui nasce il 15 marzo A Patara, siamo in Licia Dove c'erano quelle bellissime tombe rupestri Quelle rupestri Sì, siamo nella costa meridionale della penisola anatolica Oggi per intenderci siamo vicini alla città di Demre, nell'attuale Turchia Dove Piero va spesso Sì certo, con Erdogan, che mi vuole tanto bene Senti, dal punto di vista storico le informazioni sulla sua vita Non sono particolarmente attendibili Nessuna cronaca a lui contemporanea O scritto di suo pugno ci è pervenuto Ci sono dei documenti storici che incominciano a citarlo E che risalgono intorno al VI secolo Siamo 200 anni dopo la sua morte Quando il suo culto è molto sviluppato E al punto che l'imperatore Teodosio II 401-450, quindi siamo nel V secolo Ordina la costruzione di una chiesa in suo onore nella città di Mira Siamo appunto in Licia Dove lui era stato vescovo Dove era stato vescovo Poi in realtà sappiamo che tutta la storia Con i miracoli, con le vicissitudini di San Nicola Ci è nota attraverso Giovanni Diacono Giovanni da Monte Cassino E siamo 500 anni dopo San Nicola E Jacopo da Varagine o da Varazze Nella leggenda aurea E siamo quasi mille anni dopo Quindi insomma è così Credo quia absurdum Ecco, bravo Leonardo Allora, la sua era una famiglia di origini greco-cristiane E secondo alcuni era lui imparentato con un suo predecessore Cioè col vescovo di Mira I genitori muoiono durante un'epidemia E lui si trasferisce appunto in quel luogo Dove prende gli ordini e si dedica alla beneficenza A questo periodo risale la prima delle tantissime leggende Che è riportata dal monaco dell'ottavo secolo Michele Artimandrita Voi quando vedete un dipinto antico Soprattutto tra 3 e 400 c'è una fortuna enorme Penso ad Ambrogio Lorenzetti agli Uffizi Penso al Beato Angelico alla Pinacoteca Vaticana Quando vedete uno che da una finestrella butta delle mele Non è una roba dei carcerati No, ma è San Nicola Perché? Perché lui va in soccorso di tre ragazze da marito Che sono figlie di un mercante devoto cristiano Che è caduto in disgrazia E cosa fa? Di notte lui lancia nelle loro stanze Delle borse di denaro O delle mele d'oro Insomma ognuno poi la descrive come vuole Che sono utili a pagare la loro dote Mica male Tant'è che lui diventa il patrono delle fanciulle da marito Sì perché nella storia poi come ci è stata poi tramandata Nelle varie versioni Voleva che queste poi fossero destinate alla prostituzione E quindi lui le salva Le salva A Leonardo è molto caro San Nicola San Nicola Perché anche lui piace salvare delle ragazze Dalla prostituzione No, no, questo non posso dirlo Senti, si dice anche che poi in viaggio verso la Terra Santa Lui sia capace di calmare una tempesta Con la sua preghiera E quindi E quindi è il patrono dei marinari No, dei marinari Ecco Dei pescatori e dei marinari Dei marinari e dei viaggiatori Io non sono marinari Però pescatore Cuoco e pescatore Ecco va bene Dopo le fanciulle da marito E i marinari e i viaggiatori Arrivano i bambini Arrivano i bambini Perché? Perché durante una carestia c'è un macellaio Che vorrebbe uccidere tre infanti Per spacciarli Sì, siamo veramente La crudeltà Mamma mia Dei talebani Carne da maiale Per venderli E lui interviene Spessifichiamo C'era una carestia Sì, sì, l'ho detto C'era una carestia Perché lui cosa fa? Riesce a risuscitare I tre infanti Ah, pensa col maiale No, il maiale no E hai visto che il baby-us Si è subito È simile È simile È simile Con San Nicola non c'è tre senza quattro Non si sbaglia mai Perché anche il patrono dei delinquenti pentiti Perché salva dei banditi Degli innocenti, presunti banditi Non si capisce bene Eh, prova a me Per tutte queste cose Per tutte queste attività miracolose Nel mondo greco Lui è individuato anche come taumaturgo E visto come lo fa bene il taumaturgo Il nostro Leonardo Allora, non è certo che vi abbia realmente partecipato Ma ci sono addirittura delle fonti storiche Che lo inseriscono tra i vescovi presenti Al primo concilio di Nicea Beh, visto che era da quelle parti Sì Possibile, del 325 Sì, che fu voluto dall'imperatore Costantino E voleva mettere pace tra le varie posizioni E soprattutto l'eresia di Ario L'arianesimo Ario, sappiamo, negava la Trinità Negava la Trinità Quindi, diciamo, la caratura divina di Gesù E questo ovviamente non era tollerabile Si dice addirittura che San Nicola Abbia preso a schiaffoni Ario San Nicola era uno che menava le mani Sì, sì Va bene Dopo la morte il suo corpo viene inumato Su un'isola Siamo nelle attuali coste della Turchia Dove si va in barca Dove si va in barca Però, cosa succede? Ci sono i continui attacchi arabi E quindi bisogna proteggere la salma del santo Sì, è una vicenda Diciamo, sono diversi i momenti storici Ma molto in parallelo a quella di San Marco Che da Alessandria viene trafugato Da dei mercanti veneziani La che si ammetta al nostro adorato Tintoretto Per piacere Sì Il quadro di Brera Così lo facciamo vedere Per San Marco San Marco A Brera c'è tanto San Marco Perché c'è anche la predica dei Bellini Quindi Anzi, Tintoretto guarda Bellini E lo veste nello stesso modo Invece lui viene portato a Mira E resta a Mira in un primo tempo E poi nel 1087 Dalla città di Bari Parte una task force Una missione di salvataggio Salvate il soldato Nicola Nicola parte il sindaco De Caro De Caro De Lanci Con la fascia E va a prendere San Nicola Intorno chiaramente a San Nicola Si crea un culto fenomenale E si crea la meravigliosa costruzione Uno dei capolavori del romanico italiano Appunto la Basilica di San Nicola Stupenda Il Papa è Urbano II Siamo agli albori di quello che viene chiamato Lo stile romanico Sant'Ambrogio Modena Bari E da lì in poi Il culto di San Nicola Non cesserà mai di trascinare Migliaia e migliaia di fedeli Tant'è che quanti sono i Nicola Che in Puglia È proprio un nome Noi da bambini siamo cresciuti Con lo splendido Maurizio Micheli Grandissimo Mi voleva strene il suo spettacolo Che si collegava in televisione Diceva Mi chiamo Nicola E vengo da Mola Mola in provincia di Beri E sono innamorato della brunetta Dei ricchi e poveri Perché il nostro Micheli È nato a Livorno Ma è cresciuto a Bari E quindi è un grandissimo protagonista Di quella meravigliosa terra E Bari salvò il corpo di San Nicola Non solo dai musulmani Ma anche dagli scismatici Cioè dai bizantini Perché la chiesa romana Voleva restasse Dentro le sue terre Nei suoi confini Chiaramente Bari diventa una meta Per tutti quelli che si imbarcano Per la Terra Santa È una sosta intermedia E il culto di San Nicola Nel Medioevo diventa Un vero must nel Medioevo E poi Leonardo Dobbiamo raccontare Come si fa ad arrivare Fino a Santa Claus Cioè a Babbo Natale Nel mondo germanico Nel mondo anche Mi ricordo che anche Filippo Raccontava che in Alsazia Si festeggiava soprattutto Il San Nicola Il 6 dicembre Più che il Natale I regali venivano fatti Proprio a San Nicola Sì perché ricordando La vicenda della risurrezione Dei tre bambini Si facevano questi doni E ancora oggi in Olanda In Belgio In Svizio Anche Piero i regali Li fa e li riceve Il 6 dicembre Sì io vado in quelle terre Per averli Tu hai visto che io sei Il 6 dicembre scappo E poi torni qua Torno per il 7 Ecco Perché c'è la prima della prima Brea E c'è la prima della scala Soprattutto la prima della prima La prima della prima Vabbè Boccaccia mia Questo santo Viene chiamato in olandese Sinderklaas Sinderklaas E nel corso dell'Ottocento Il Sinderklaas Olandese In America diventa Santa Claus Santa Claus Perché poi come sempre C'è un personaggio Che si agita molto Per creare il mito E in questo caso Stiamo parlando Dello scrittore E linguista New Yorkese Clement Clark Moore Amico di Lorenzo Da Ponte Tra l'altro E' certo Che nel 1823 Nella poesia A visit from San Nicolás Descrive Il protagonista Come una sorta Di elfo Un po' grassotto Con la barba bianca I vestiti rossi E quindi insomma È il Babbo Natale Che tutti conosci Il Santa Claus Olandese Si mescola Al Father Christmas Britannico E arriva Babbo Natale Che noi peraltro Qui stiamo ancora Stiamo ancora Aspettando Per noi è sempre Babbo Natale No Non arrivano più donne Mai La gallina è spenta È vero Non dà più notizie La gallina Non dà più notizie Senti Leonardo Però a noi Il 6 di gennaio Arriva regolarmente La calza La calza Col carbon Della Befana Va bene Up on the house Up on the house Stop reindeer paws Out jumps Good old Santa Claus Down through the chimney With lots of toys All for the little ones Christmas joys Oh who wouldn't go Who wouldn't go Up on the house Leonardo Oggi parliamo di un pittore Salvatore Rosa La cui straordinaria potenza pittorica È stata quella di apparire terribilmente moderno a noi Come se fosse stato dipinto un secolo fa Sì E forse meno compresa dagli uomini del suo tempo Beh Diciamo è un irregolare Siamo passati dalla costa adriatica A quella tirrenica Della campagna Della campagna Della campagna Perché lui nasce a Napoli Nel 1615 E oggi ne parliamo Perché si spegne a Roma Il 15 marzo del 1673 È sicuramente uno spirito ribelle È una spugna Perché assorbe tutto quello che Che vede Ed è un uomo però Non pensiamolo come uno solitario Uno che sapeva stare Insieme ai grandi spiriti del suo tempo Sia dal punto di vista Degli altri artisti Anche artisti non italiani Sia dei letterati Sia anche di grandi committenze Che lo proteggevano Sì e poi sappiamo L'ha raccontato che oltre a essere pittore e poeta Era pure commediante Sì La cosa gli avrebbe creato qualche problemino E c'è il famoso scazzo con Bernini Con Bernini Sì si può dire scazzo Sì si si può dire Leonardo Allora i suoi quadri Hanno un che di cupo intenso Oculto stregonesco Sì E quindi erano certamente una rarità Dopo la morte lui è stato un po' trascurato Ci si è accorti molto di lui Soprattutto a partire dal novecento Quando lui ha trovato il suo longhi in Luigi Salerno Che lo inserisce in una collezione di pittori del dissenso Certo è stato un artista anticlassico per certi versi E anche molto classico in altri momenti della sua vita E che chiaramente quindi sfuggiva alle categorie E nel novecento Che è il secolo per eccellenza Che riscopre gli individualismi I grandi irregolari della pittura Lui non poteva essere affatto trascurato Appunto era nato insomma a Napoli L'Arenella L'Arenella Padre napoletano Madre di origini siciliane Aveva uno zio materno Da cui imparò i primi rudimenti dell'arte Inizialmente lo volevano prete E per questo era stato portato in un convento Ma non ne voleva sapere Non era la sua strada Lui come apprendista Segue prima lo zio Paolo Greco E poi guarda i lavori di altri artisti Sì, tra cui vogliamo citare Aniello Falcone Aniello Falcone Che è un grande artista di quel momento Che lo inizia alla pittura di battaglia E alla pittura di paesaggio Tra l'altro salutiamo Il carissimo Nicola Spinosa Che proprio ad Aniello Falcone Ha di recente dedicato un ampio libro Beh che gioia E poi lì sempre incontra la pittura dello Spagnoletto Ribera Ribera Detto lo Spagnoletto Ribera aveva lasciato una grande eredità Che poi era l'eredità caravaggesca Diciamo mescolata con il talento di questo grandissimo Sue opere che citiamo sono Il martirio di San Bartolomeo Il San Gerolamo E poi anche i ritratti di molti filosofi Salvatore Rosa è caravaggesco Anche nell'incedere della vita Molte scorribande Con gli amici Ebbè il 600 è quel secolo lì E quella cosa lì Perde i genitori molto presto E i compagni che incontrerà In questa età saranno lungamente amici Per esempio citiamolo Domenico Gargiulo detto Micco Spadaro Micco Spadaro Sì Senti la sua propensione Perlite lo spinge a Roma A Roma anche perché Lui nel 1635 Entra al servizio Di un cardinale Da poco elevato al soglio Cioè il cardinale Brancaccio Il Brancaccio erano Una grande famiglia napoletana E attraverso questa opera di mecenatismo Lui entra a Roma Insomma dal gradino più alto Entra bene Entra bene E diventa popolarissimo a Roma Proprio perché come abbiamo detto all'inizio Non faceva solo l'artista Nel senso della pittura Ma anche diventa attore Ideatore di farse Di spettacoli di carnevale E poi aveva una curiosa Diciamo spinta verso gli artisti Che venivano a Roma in quel periodo Da tutta Europa Ad esempio i bamboccianti I pittori del nord Claude Lorrain Che trasforma la meraviglia Del Mediterraneo Dei porti Delle grandi vedute Delle marine In un ricordo per i francesi Che passavano a Roma Per l'Accademia di Francia Per il mondo che si formava a Roma Quindi lui è protagonista Di quel mondo internazionale Nella città eterna Certo E poi a Roma Lui proprio parli dei francesi Può guardare ancora Caravaggio A San Luigi dei francesi E può dipingere Sant'Omaso L'incredulità di Sant'Omaso È la sua prima opera Di argomento sacro E a Roma Il nostro Salvatore Rosa Fa l'attore Qui però c'è un incidente diplomatico Non banale Perché? Perché lui Prende in giro Recitandolo Il campione del barocco romano Cioè Gian Lorenzo Bernini E uno degli attori In scena È amico di Bernini E glielo va a dire Glielo va a dire Allora cosa succede? Viene rappresentata una commedia Pensa se le suonavano A suon di commedie Contro Salvatore Rosa E la frattura tra i due Sarà in San Apile Sì Cresce la tensione Perché Rosa Non viene accettato Nella prestigiosa Accademia di San Luca Probabilmente perché C'è lo zampino di Bernini Allora diciamo Capisce che Roma In quel momento Non fa più per lui E arriva Cade a Fagiuolo Salvifico devo dire L'invito del cardinale Carlo De Medici E quindi lui coglie al balzo L'opportunità E si trasferisce a Firenze Con tutti gli onori Il periodo fiorentino È molto interessante È uno dei più interessanti Di Salvatore Rosa È il momento in cui lui Si dedica a tutte le bizzarrie Che conosciamo Tipiche del suo stile Questi mostri Le stregonerie I diavoli Noi abbiamo citato Recentemente Il libro Dell'amico Andrea Danino Su Gaetano Giulio Zumbo Nella ceroplastica Ci sono proprio dei motivi Di scene orrende Che derivano Da Salvatore Rosa Come in questa bellissima Cera Scena di stragoneria Che si trova Alla pinacoteca Nazionale Di Sassari La sua è una visione Di una pittura Di spiegazione Dubbiamente letteraria E filosofica Ma c'è anche l'amore Perché a Firenze Lui incontra Lucrezia Solo a Firenze Puoi incontrare una Lucrezia Tu hai contato Delle Lucrezie Sì qualche Lucrezia L'ho incontrato Non era Borgia Ah non sei stato avvelenato Peccato Senti Questa donna Starà al suo fianco Per tutta la vita E sarà la musa Di molti suoi dipinti Pensiamo A pensavo per i mostri No Alla Sibilla E pensa che però Anche qua c'è un altro scandalo Sì Lei era sposata Fu un grande scandalo E la curia Prese malissimo Questa cosa E in punto di morte Come Eva Brown Mamma mia Dopo essere stati insieme Tutta la vita Si sarebbero Siposati È un amore proibito Che però certamente Ha Contribuito A rafforzare Il mito romantico Di Salvatore Certo Un po' scapestrato Lui in questo momento Introduce Nel periodo fiorentino Una visione pittoresca Del reale Una sorta di Preromanticismo Che Attenzione Se è vero Che Salvatore Rosa È stato scoperto Riscoperto Secoli dopo Secoli dopo Però in quel momento Lui ha lasciato traccia A Firenze Come abbiamo visto Non solo nelle cere Ma in una Lunga teoria Di artisti Che L'hanno Ammirato Poi chiaramente Anche il periodo Fiorentino Dopo otto anni Finisce Perché lui è Insofferente Della corte Che stare a corte Alla lunga C'è tutti i veleni Hai visto Rosa Cosa ha fatto Hai saputo Cosa ha fatto Manca adesso Stare a corte Terribile Corte tremendo Come si vede Purtroppo Il caso inglese In segno Sì Manca il caso Della corte italiana Tu hai fatto Un po' di estero Su estero A Torino Per la corte La corte No Va bene E quindi Teschi Scheletri Continuano a esserci Lui torna a Roma Passa Definitivamente A trattare Con grande Vigore I temi mitologici I temi biblici C'è sempre Un intento Moralizzante Nei suoi ultimi Quadri C'è sempre Quest'atmosfera Cupa Quest'atmosfera Misteriosa Come è stata definita Di ornida bellezza Che è un po' La chiave Di Salvatore Rosa E lui assume Piano piano Una sensibilità Sempre più inquieta Un po' mistico Un po' filosofo È un uomo affascinante Molto affascinante E a riprova Di quanto Leonardo Ha raccontato Ricordiamo Questo signore Rifiutterà L'invito Di Cristina di Svezia Dell'imperatore D'Austria Del re di Francia Deciderà Di stare A Roma E non me move E non me move E si metterà a fare Battaglie Per i paesaggi Probabilmente Alcuni soggetti Anche non più Tanto amati Però sa Che questi soggetti Gli danno Quel guadagno Il garantito Senti Un altro elemento Del carattere Giusto L'indipendenza Giusto Lui non accettava Le caparre Bravo Perché poi Lo vincolavano E fissava Lui Il prezzo Delle sue opere E arrivava Anche a guadagnare Cifre Molto Questo mi è riuscito Bene Voglio di più Importanti C'è un figlio Leonardo Augusto Gli costruirà Un monumento Funebre All'interno Di Santa Maria Degli Angeli Che è la chiesa Costruita sulle terme Di Diocleziano Siamo di fronte Alla stazione Termini Poi ci sono tante Dicerie Su di lui Che avesse preso parte Alla rivolta La rivolta di Masaniello Che si fosse unito A dei banditi In Calabria Ecco tutta questa leggenda Aumentava il fascino Dell'eroe Preromantico Certo Senti Era un idolo Della libertà di pensiero Nell'Europa Del Settecento E più tardi Qualcuno Lo colora Addirittura Come Eroi degli ultimi Ma chi è Giordano Bruno Giordano Bruno Andate A vedere I suoi quadri Se avete bisogno Di informazioni Sapete Io so dove sono Sì Alcuni li ha anche Leonardo Perché sono stati Ben nascosti Sono stati trafugati In un famoso furto Ma io adesso sto delando Questo mascalzone E io c'ho il Timbota Come faccio a non sapere C'è il procione Oggi è un po' Oh Mojo 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 Vileda Bellissimo Che bravo che sei Leonardo Ma sei sorprendente Non si può fare pubblicità No non si può E che il problema Del procione So che ha mangiato Qualcosa di molto pesante Ieri Beato lui C'era qua Il Babi Rusca Preparava la bagna cauda E poi lui non la digerisce Senti Leonardo Io passo dal mio Timbota Oggi è venerdè Venerdì Naturalmente Ed l'arrosto Che anting Taca Lassa calbrusa Stai migliorando Che vuol dire L'arrosto Che non ti tocca Lascia pure che bruci Quindi non fai Che non è proprio Una bella massima No è orrenda Vuol dire Quando gli va a fuoco la casa Chi se ne frega Non ne fica la tua Non ne fica la tua Hai capito Siamo anche un po' Egoisti Qui all'Almanaco No è il Timbota No ma il Timbota Ormai A per il vaso Timbota E tu? È un film straordinario Che ha vinto l'Oscar Come miglior film In lingua straniera La zona di interesse La zona di interesse Vanno molto bene Grazie a un particolare tipo Di concime Che non vogliamo però Dire quale sia Come ha scritto Aldo Cazzullo La zona di interesse Non è il film degli ebrei E neanche sugli ebrei Ma è sui loro Volonterosi Carnefici E su coloro Che girano la testa Dall'altra parte Tra cui ci furono Anche molti italiani Ma questo non ci piace Ricordarlo Oggi gli italiani Vanno più volentieri In pellegrinaggio Alla birreria Dove Hitler Progettò il colpo di stato E si riferisce Quattro laziali Eh sì Sì ma non facciamo Di tutta un urban fashion A parte che è un errore Perché era un'altra birreria Perché quella lì Non c'è più Non c'è più Chi segue l'Almanaco Lo sa Non c'è più Non c'è più Poi adesso Non tutti per fortuna Dai Sì Va bene Ci vediamo domani Salutiamo Tony Concina Che certamente Ci sta guardando Perché Noi Comunque Gli vogliamo molto bene E speriamo che la Lazio Si possa risollevare Ah ecco Infatti non capivo Qual era l'aggancio C'è l'aggancio L'ho capita all'ultimo C'è l'aggancio Lo so che a Leonardo Il traccio fa schifo Non si dice fa schifo No non si dice Bravo Se la suona e se la canta Sì Din don don Va bene Ci vediamo domani Sempre sul nostro canale Evviva Almanaco di bellezza A cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi Una produzione Classica HD Sky Canale 136 In collaborazione Con Intesa San Paolo Grazie a tutti Metrica Fremonti Capitura Come